Siete pronti per una nuova avventura su Cosmos TV? Sta arrivando Top Speed Valdiano Velocità Simpatia E tantissimo divertimento Intervisteremo gli ospiti in studio E metteremo alla prova la loro abilità in pista Presenteremo le caratteristiche tecniche delle auto del momento Di tutte le marche Una prova di abilità con radiocomando Ed infine la prova speciale con una Top Car ed il nostro misterioso pilota Speed Top Speed Valdiano vi terrà incollati al divano con le sue puntate sprint Non mangate e tenetevi forte No, sé che no Sé che solo Sé che ya no soy Mira, sofia Sinto un miraggio